Il prossimo 11 dicembre ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016, in quell'occasione l'Università si porrà presentare il suo progetto formativo e le sue linee strategiche. Abbiamo pensato fosse opportuno cominciare questo percorso di avvicinamento all'inaugurazione con un confronto con i territori, con tutte le comunità, facendo riferimento al territorio come rete di reti. Quello che è successo in questi anni di crisi, qui in Piemonte, ma in realtà in tutto il mondo, dimostra che le imprese che ce l'hanno fatta sono le imprese che sono state capaci di incorporare conoscenza. Conoscenza nei prodotti che fanno, conoscenza nel modo in cui organizzano la produzione. Il ruolo dell'Università da questo punto di vista è assolutamente fondamentale. Certamente occorre che Università e imprese collaborino in maniera più stretta e vorrei dire con maggior fiducia reciproca. Lo scopo del Barcam di oggi è analizzare l'impatto dell'Università sulla cultura del territorio urbano e regionale. Il modo in cui l'Università si rapporta già con questa cultura, quindi con i beni culturali, quindi con il trasferimento di conoscenze, la divulgazione, il modo in cui l'Università svolge la sua terza missione e soprattutto però raccogliere dei feedback, raccogliere delle idee, raccogliere degli spunti innovativi che possono essere poi oggetto di discussione nell'ambito dell'inaugurazione dell'anno accademico e successivamente oggetto di impegno da parte dell'Università. L'Università nel suo rapporto con quello che è appunto il nostro mondo della cultura, direi fondamentale. È il luogo della cultura per eccellenza, ma anche il luogo da cui si disegnano gli orizzonti della cultura, soprattutto in termini contenutistici. Non dimentichiamo anche l'aspetto proprio di produzione culturale attraverso quello che sono le start-up, gli incubatori e tutto quel mondo appunto di giovani che si misurano rispetto all'impresa culturale. Pensando all'Università come un attore che è presente nel territorio sia locale sia alla scala regionale, è un'Università che è una presenza sotto molteplici punti di vista, sia nell'attività che svolge istituzionalmente, nella ricerca, nella formazione, sia in quella che viene chiamata la cosiddetta terza missione. Quindi l'Università, soprattutto in questo Barcamp, considerando il rapporto con le reti sociali, prenderà in considerazione tutte le relazioni che l'Università attiva con l'ambiente esterno che vanno al di là dei suoi compiti istituzionali, ma per la sua sola presenza. Con oggi si apre a una nuova discussione nel rapporto tra Università e Regione, in modo particolare sul tema dell'alta formazione e tutto quello che attiene all'accompagnamento all'interno del mondo del lavoro, partendo appunto dal sistema accademico. Il consolidamento di un'esperienza con Regione Piemonte e Università è un consolidamento che si è rinnovato nel tempo e che tiene in considerazione delle grandi trasformazioni che caratterizzano il nostro Paese.